Buongiorno e buon mercoledì. Allora, pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale, anche con le donazioni e gli abbonamenti. L'obiettivo è sempre 5.000, datemi una mano da arrivarci presto. È stata varata la manovra, manovra tra l'altro blindata, quindi nessuna possibilità che si possano correggere gli errori presenti. La manovra del governo è da 24 miliardi, una manovra ridicola, ridicola. È ovvio che questo governo ha un chiodo fisso in testa alla natalità, per cui gli asili gratis alle famiglie che hanno il secondo figlio, gli aiuti che sono indirizzati a famiglie che hanno tre o più figli, aiuti che ribadisco non risolveranno niente perché sono aiuti minimi, come sono minime le rivalutazioni delle pensioni, come, in carità, è un atto dovuto smettere di tagliare le pensioni, di bloccare la rivalutazione delle pensioni. Non mi sembra che sia grande che cosa. Era anche poi una farsa che ormai, quando non si sapeva dove pescare, si andasse a pescare bloccando la rivalutazione delle pensioni. Proseguirà il cuneo fiscale, misura che avvantaggia di più chi ha redditi alti rispetto a chi ha redditi più bassi. Aiuti per i singoli, per le famiglie senza figlio, con un figlio solo, scordateveli. Avete un figlio? Arrangiatevi, ma l'asilo ve lo pagate voi. Noi ve lo paghiamo soltanto dal secondo. Aumenti delle pensioni di invalidità parziali? Niente, niente di niente, niente di niente. Nonostante la locatelli, la mia benata, fino all'esasperazione, non c'è niente. Neanche un centesimo. Ma, oh, mi raccomando, chi l'ha votato questo governo, applausi adesso perché scommetto che ci sono stati pensionati parziali che l'hanno votato questo governo perché gli aveva promesso la luna, la luna, gli aumenti delle pensioni. Anche gli aumenti che ci saranno sulle minime sono bassissimi, poche decine di euro, ma poche poche, che non cambieranno la situazione. Ve l'ho detto, in una situazione di crisi così grave sarebbero serviti robusti innesti dal punto di vista economico, che non si possono fare perché soldi in cassa non ce ne sono. Ma basterebbe avere il coraggio di dirlo, non prendere in giro la gente. E comunque, visto che hai fatto una manovra debito, hai fatto 30, fai 31. Cioè, devi aiutare il popolo italiano. No, questa manovra, come al solito, io non avrei mantenuto il cuneo fiscale, mi dispiace. L'avrei mantenuto soltanto per quelli sotto un determinato reddito, gli altri si arrangino e avrei trasferito quei soldi cercando di aumentare almeno in parte le pensioni di invalidità parziale. Verrà però ricaricata la carta dedicata a te, che notoriamente copre una platea minima di persone, e chissà perché tra quelle persone non ci sono i single, non ci sono le famiglie senza figli, non ci sono le famiglie con uno o due figli, non ci sono le famiglie praticamente dal tre in su, dalle famiglie che hanno tre figli in su, ci sarà questa ricarica. Che poi, tra l'altro, da quello che si è capito, non verranno erogate nuove carte. Ricaricheranno quelle che ci sono già. Quindi il beneficio rimarrà fisso a quelli che ce l'hanno già avuto. Ditemi voi se questo qui è aiutare la gente. Ditemelo voi. Questo non è una manovra. Questa è una presa in giro. E, tra l'altro, vengono chiuse opzione donna e l'altra minata, cos'era 401. Adesso siamo a 404. Ma sì, tanto. Cosa volete che cambi? Le lappe sociali, ecco l'altra. Cosa volete che cambi? Non sanno come sistemare le cose. Allora, spostano una cosa qui, la spostano là, poi una cosa là, la spostano qui. Di fatto non incidono niente. Cioè, qui, veramente, bisogna avere il coraggio di dire che il Paese sta soffrendo, non ce la fa. Oh, visto che abbiamo fatto debito, a cavolo, tanto vale farlo seriamente. Facciamo uno sprofondo economico, tanto lo sprofondo c'è già, ma che almeno il Paese respiri. Sì, lo so, è un ragionamento populista, demagogico, potrebbe entrare qualcuno a dire, e scommetto che tra quelli che lo direbbero c'è anche gente della mia parte politica. Perfetto, sarà populista, sarà demagogico, sarà quel cacchio che volete. Ma se la gente non ha i soldi per fare la spesa, l'economia, la microeconomia e anche le catene di distribuzione grandi finiscono per soffrirne. Non prendiamoci per i fondelli. Se la gente non rimette denaro nel circuito economico, il circuito si rompe. Ficcatevelo in testa. In queste condizioni la gente non ce la fa, appunto. E i soldi per la sanità? Ma evitiamo. I soldi per la scuola? Niente. Niente di niente. Però, come suol dire, dove si potrebbe pescare non vanno a pescare, quindi gli extra profitti. Allora, gli extra profitti che hanno pescato, posto che li abbiano pescati, sono ridicoli. Però attenzione, in questa manovra, stando alle parole del Ruspa, ci sono i soldi per il ponte. Ci sono i primi stanziamenti per il ponte. Quindi i miliardi da buttare per quella immensa stronzata ci sono. Non ci sono per i poveri. Non ci sono per il single. Non ci sono per i pensionati invadi di parziali. Non ci sono per la scuola. Non ci sono per la sanità. Ci sono per gli amichetti. Ci sono per un'opera che è pericolosa e velleitaria assolutamente inutile, perché non si ripagherà mai. Mai. Perché servirebbe un traffico enormemente più elevato di quello che c'è attualmente tra la Sicilia e la Calabria. Un'opera in cui probabilmente molta gente che comunica scrivendo i bigliettini ci andrà a mettere le zampe, con buona pace, di quell'impedito del Ruspa. Uno che... Ho visto uno short di una persona che secondo me ha azzeccato bene la cosa. Il Ruspa prende il reddito di politicanza. Cioè, lo pagano 15.000 euro al mese sostanzialmente per non fare una mazza. Perché tanto cosa volete che faccia? Quella ogni volta che apre bocca ti chiedi veramente quante ragnatele ci siano nel suo cervello? Questa è la manovra. Blindato, ovviamente, perché qua non avremmo mica discutere. Io già sono pronto a vedere i Gian Bruno, anche perché se non lecca il pelo al governo a casa dorme sul divano. Parabola Senaldi, che figuria, se quello è un giornalista, è un ippopotamo e Roberto Bolle. Le altre gentaglia, così, che dirà che questa è una manovra che pomperà, incentiverà. In fondo sono già cominciate le gran casse dei giornali, no? Mi capita di leggere. Adesso, pronti 427.000 posti di lavoro. Tanto per sparare dei numeri, perché poi non ti specificano se sono posti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, contratti brevi, contratti ultra brevi, stage, tirocini, ci buttano dentro tutto. L'importante è gonfiare i numeri. L'economia va così bene che in recessione le previsioni di crescita sono in negativo e secondo loro va tutti questi posti di lavoro. Ma se l'economia non va, da dove cazzo escono questi posti di lavoro. Me lo volete dire? Eh. Dite piuttosto che avete generato una struttura tale che sfrutterà, sfrutterà le persone più povere, costringendola ad accettare lavori pesantissimi e umilianti con stipendi da fame. E con quegli stipendi non ci potranno pagare le utenze, non ci potranno pagare da mangiare, non ci potranno pagare le spese mediche, quindi non si potranno curare. Questa è la realtà di questo governo. E chi l'ha votato si prenda la responsabilità di averlo votato. Ve l'ho detto, io non ho nessuna minima comprensione per quell'imbecille che prendeva l'eredito di cittadinanza e ha votato per la Meloni, perché la Meloni gli ha promesso che nessuno sarebbe rimasto indietro. Io, verso quella persona, non ho nessuna pietà. E giuro che se fosse capitato che mi avesse, non so, se fosse presentato un collocchio di lavoro da noi, piuttosto che darlo lui o dava un sorcio. perché a uno così non si merita un cazzo. Perché va bene essere cretini, va bene essere ideologizzati, ma tu dovresti ragionare per il tuo interesse in questo momento, non per la tua posizione politica. Perché qui ormai devi ragionare in termini di sopravvivenza. E se prendi l'RDC vuol dire che hai dei problemi a sopravvivere. Noi ragazzi, ditemi cosa ne pensate, perché ovviamente adesso gireranno le gran casse, gireranno quelli, ma mi stupisco anche di giornali che teoricamente non dovrebbero essere allineati, ma di fatto poi la finiscono per esserlo. E vabbè, questa è la realtà. Ora aspettiamo che questa manovra ridicola finisca in gazzetta in gazzetta ufficiale, così sarà sigillata, approvata e tutto quanto, e ci renderemo perfettamente conto dell'ennesima fregatura che hanno preso i pensionati. Perché il riavvio delle rivalutazioni non è una concessione, è un diritto. Un diritto che è stato negato per tanti anni, quindi non prendetela come una grande concessione del governo. Poi non è un riavvio completo, perché riguarda le pensioni fino a quattro volte quelle un po' più alte, no. Cominativamente di quelle un po' più alte mi interessa anche relativamente poco, però ribadisco, gli aumenti per le minime sono ridicoli e per gli invalidi parziali non ci sono proprio. Ma questo è un governo, parole della ricotta, che pensa ai più deboli. Io non so, io penso che l'unica parola che definisca bene questo governo è senza vergogna. Ciao a tutti.